... ... Ok Non ci vede un cazzo qui E' un atto che ci piace andare alla torcella qua, zi? Non per niente Ma che Cristo Bastro in su Devo sparare E' ancora vivo Allora E' ancora vivo E' ancora vivo E' ancora vivo la bomba che si intenzione il 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 sei fottuto 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 bene sei fottuto non credo ma ancora sai fottuto non vedo ho voluto ce la farò ma voglio leon fra insomma per per sicurezza che bello i nostri ok spray spray cos'estero si fottuto si fottuto si fottuto come si fottuto qualcosa di l'estero è rimasta bene si fottuto si fottuto si fottuto capito si fottuto si fottuto flashback ok si fottuto 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 rimane si fottuto 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 andiamo a si fottuto 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 si fottuto